Vosca Accademia Culinarna i Tefal Scriviamo le zucchine e il parmigiano reggiano e noi facciamo il resto di oliva, ciosne e ostra paprika Corriamo le zucchine e piersi in passecchi e poi in mali costecchi e ci sono due donne di oliva, ciosne e ostra paprika smagiamo troche le zucchine e ora vado a goto, soliamo e facciamo il macaron Mentre ora smagiamo le zucchine troche sul, troche piepsi, troche vado a gotovania e quindi il macaron è sbarzo al dente e l'on due donne le zucchine Miescio, miescio, parmigiano reggiano e miescio Miescio, miescio È vienzo il parmigiano reggiano e è vienzo il ceviche, miescio, miescio Dopo che abbiamo super cremato, serato, sauce Io voglio chiedere sbarzo serato E voi, come mi piace Super proste, super uatve, preppis e a xasce, è buonissimo Ciao!